Le origini del castello di Aiello sono d'epoca patriarcale, come una possente torre che aveva l'utilizzo di punto di osservazione per le scorrerie dei turchi. Nel 1589 la famiglia nobile goriziana Rabatta lo acquistò e nei 170 anni che ne fu proprietaria lo ampliò a forma di quadrilatero. Passò di mano a diverse famiglie nobili, tra cui la famiglia ragusana dei De Bona e la famiglia degli Urbanis di San Daniele. Solo dopo il 1946 venne suddiviso in più proprietà e recentemente la sud del castello di Aiello è stata destinata a case vacanze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.